Verrà fuori sicuramente una bella edizione, un po' mutilata perché non posso fare intervenire né cori, né orchestre, né gruppi. Però c'è una gran voglia di ripartire e questo già basta. Riusciamo a farlo in presenza perché per fortuna siamo gialli, quindi tutto per il meglio. Torna al Circo L'Artistico di Corso Italia la rassegna musicale Mercatino in Concerto. L'appuntamento con il Calcit è per giovedì 13 maggio alle 19.30, mentre la finale è prevista per domenica 23 maggio alle 15 in corrispondenza delle premiazioni del diciannovesimo concorso musicale intitolato a Gianfranco Barulli, a cui partecipano 14 scuole e 30 maestri coinvolti con i loro allunni. Al concorso partecipano giovani musicisti dai 5 anni fino senza limite di età. In tutte le categorie, sia solisti che quest'anno duo e trio e anche nella nuova nata categoria di musica leggera. I premi, purtroppo quest'anno mancano le classiche medaglie del mercatino perché purtroppo il mercatino è saltato. Però abbiamo sempre i nostri amici scultori Alessandro Marrone, Sandro Ricci e la pittrice Paola Bartolini che hanno realizzato delle splendide opere da regalare ai nostri ragazzi. Un evento sostenuto e condiviso anche dal comune di Arezzo. Si parla di una garanzia per la città e di una storia ormai consolidata che però guarda al futuro e insieme andiamo a sensibilizzare ancora di più gli aretini garantendo che le risorse vengano investite correttamente. Attraverso una pluralità di iniziative di cui questa è una che ormai fa parte di tutte le rassegne di solidarietà e di generosità che il Calcit mette in piedi. In attesa del concerto il Calcit nelle scorse settimane avendo dovuto rinunciare al più grande appuntamento dell'anno all'aperto era già sbarcato online con un doppio appuntamento con Aspettando il mercatino. Il mercatino online intanto va benissimo perché concettualmente uno o due volte al mese loro fanno questa vendita su whatsapp e ogni mercatino incassano dalle 600 alle 700 euro. Diciamo che oggi da quando hanno iniziato nel 2020 hanno già versato nelle casse del Calcit oltre 15 mila euro perciò un bel contributo veramente.